Buonasera, nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Naturalmente apriamo questa edizione parlando dei risultati elettorali dei ballottaggi. Un risultato storico in questo fine settimana. Il Movimento 5 Stelle ha conquistato Roma e Torino. A Napoli e Bologna invece gli elettori hanno riconfermato Luigi De Magistris e il PD Virgilio Merola. A Trieste vittoria invece della centrodestra con Roberto Di Piazza. Milano con un faccia a faccia tosto, ha chiuso con la vittoria del PD e l'elezione di Beppe Sala. Percentuale del 51,7 contro il 48,3% di Parisi. Novità anche in Veneto dove erano diversi i comuni delle province al voto. E allora sentiamo nei dettagli i risultati del nostro territorio. Il secondo turno elettorale nei sette comuni veneti al di sopra dei 15.000 abitanti ha consegnato al Movimento 5 Stelle la città di Chioggia. Nel comune veneziano infatti Alessandro Ferro con il 59,8% dei consensi ha battuto il sindaco uscente della Lega Giuseppe Casson. Il carroccio si è rifatto a Oderzo dove ha vinto Maria Scardellato con il 68% dei voti contro Laura Damo, 32%. Il centrodestra più in generale ha conquistato Abano Terme con Luca Claudio, prevalso con il 52,3% rispetto a Monica Lazzaretto, 47,7%. Este con Roberta Gallana, 57,2% che ha battuto Stefano Stoppa. Adria con Massimo Barbugiani, 64% contro Nicola Zambon che invece ha registrato il 36%. Sempre al centrodestra va San Giovanni Lupatoto in provincia di Verona dove Attilio Gastaldello ha sconfitto Remo Taglioli. Riconferma infine a Bovolone per il sindaco uscente Emilietto Mirandola che ha avuto la meglio sullo sfidante della Lega Alessandro Minozzi. In Veneto le elezioni sono state particolarmente accese ad Abano Terme dove il sindaco che è stato rieletto Luca Claudio era stato bersagliato in modo pesante ma la gente al di là delle chiacchiere lo ha scelto. Grande vittoria per Luca Claudio che è stato riconfermato sindaco di Abano. La cittadina Termele dunque riconferma pienamente la sua fiducia, un testa a testa che ha fatto subito capire chi sarebbe stato il vincitore dall'inizio dello spoglio delle schede. Luca Claudio è stato al centro di tantissime polemiche, è stato attaccato dai partiti di destra e di sinistra, è stato sottoposto a un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e oggetto di numerose accuse ma i cittadini lo hanno scelto comunque. Luca Claudio alla vittoria era visibilmente emozionato e felice, dedica questo momento alla sua famiglia che lo ha sempre sostenuto e gli è sempre stata vicino. Relativamente al territorio ha risposto alla stampa, continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Proseguiamo il nostro TG con la cronaca. Un bambino di 10 anni di Montebelluna alla guida di un gocarda all'autodromo di Adria è rimasto coinvolto in un incidente mentre era sulla pista. Si sono attivati immediatamente i soccorsi, il bambino è stato portato all'ospedale di Padova, si trova ricoverato in prognosi riservata. 190 piante di marijuana, alte 1,70 m, sono state trovate dai carabinieri in un'abitazione della provincia di Venezia a Meolo. L'abitazione composta da tre piani era stata attribuita a Serra dove avveniva la coltivazione e l'essicazione della marijuana. Arrestata una coppia di giovani italiani che da tempo era tenuta sotto controllo dagli uomini dell'arma, dei carabinieri. Un neonato abbandonato vicino ai rifiuti è stato trovato ieri sera da una donna e fortunatamente in questo modo è stato salvato. Il piccolo sta bene. Sentiamo com'è andata. Un neonato abbandonato vicino ai rifiuti nell'isola ecologica Santa Maria di Sala in via Cavinna all'incrocio con via Trieste. A sentire i lamenti e scoprire il corpicino appena nato è stata una signora che era andata a gettare i rifiuti. Il sacchetto con quel corpicino che aveva ancora il cordone umbilicale attaccato era dentro a un sacchetto a ridosso di una siepe. Guidata dai lamenti la donna è arrivata a lui facendo l'incredibile scoperta che gli ha permesso di salvarlo. Ha chiamato i soccorsi e in poco tempo il neonato è stato portato all'ospedale di Mirano. Le sue condizioni sono buone. I carabinieri sono alla ricerca della mamma e a tutti gli ospedali è stata diramata la notizia. Quasi un anno fa sempre a Santa Maria di Sala era stato abbandonato davanti alla canonica della parrocchia un altro neonato, una bimba che fu trovata dal sacerdote. Incidente nelle acque della città lagunare nella zona della Giudecca. Un barchino condotto da un ragazzo di 17 anni si è capovolto. Il ragazzo è caduto in acqua ed è rimasto impigliato nell'elica. È stato soccorso immediatamente trasportato all'ospedale dell'Angelo. Ha riportato delle ferite piuttosto serie alla testa e varie contusioni sul resto del corpo. La dinamica dell'incidente è da chiarire. Paura per una famiglia di Cadoneghe in provincia di Padova. Marito e moglie erano usciti un quarto d'ora. Quando sono rientrati in casa hanno trovato quattro sconosciuti intenti a rovistare nei cassetti. I coniugi si sono spaventati a quel punto sentendo le urla. I quattro hanno scelto di andarsene. Tre si sono dileguati immediatamente mentre uno ha iniziato a lanciare le sedie contro i padroni di casa. E una di queste sedie ha colpito l'uomo ad un braccio. Secondo la descrizione i quattro sarebbero di corporatura robusta con i capelli rasati. Purtroppo non è la prima volta che quella casa viene visitata dai ladri. Questa sarebbe addirittura la quinta volta. E in queste ore è in corso la caccia ai malviventi del furto. Se ne stanno occupando i carabinieri. Il maltempo continua a portare precipitazioni intense e improvvise con caratteristiche che cambiano di zona in zona. Ieri mattina la situazione è stata particolarmente difficile in provincia di Padova, nella zona della bassa a Pernumia, vicino a Monselice. Qualche ora di sole, ma il tempo non ha concesso una tregua molto lunga, tanto che domenica mattina una bomba d'acqua ha messo in serie a difficoltà gli abitanti di Pernumia, vicino a Monselice, nel Padovano. L'enorme quantità d'acqua ha invaso strade e case, mettendo in difficoltà i residenti che si sono trovati con le abitazioni allagate e l'acqua che non defluiva. La situazione è stata particolarmente grave per una ventina di famiglie che sono dovute letteralmente uscire di casa. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la protezione civile che hanno aiutato i residenti. Numerosi i danni riportati negli edifici. Sono in corso le ricerche dei malviventi che l'altra notte hanno fatto saltare lo sportello Bancomat della filiale di Veneto Banca a Tencarola. Tra via Padova e via Udine è stata una notte di paura per i residenti che sono stati svegliati da un boato. Un comando di cinque persone pare è arrivato sul posto per far saltare lo sportello, ma quando hanno messo l'acetilene qualcosa è andato storto. Nel colpo le banconote hanno preso fuoco. I malviventi sono stati costretti alla fuga anche perché sul posto sono arrivati i carabinieri. È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio dell'apparato. Parliamo di Banca Popolare di Vicenza e delle azioni della Consob. Sono pare scattate delle multe, ma sentiamo il servizio. Sanzioni in arrivo da parte della Consob alla Popolare di Vicenza e ad alcuni suoi dipendenti di alto livello per le supposte violazioni alla normativa europea MIFID sui documenti da compilare obbligatoriamente da parte degli istituti di credito per tracciare un profilo dei loro clienti quando acquistano prodotti finanziari. Ad essere nel mirino, secondo il giornale di Vicenza, sono le azioni della stessa BPV in occasione di due aumenti di capitale del 2013 e 2014, vendute spesso grazie alle cosiddette operazioni baciate e congelate nei giorni scorsi da un pronunciamento del giudice del Tribunale di Venezia. Anna Maria Amarra, che ha accolto il ricorso d'urgenza di un imprenditore, che ha chiesto di dichiarare nullo il contratto di fido in relazione alla sottoscrizione dell'aumento di capitale correlato. Secondo gli ispettori di BCE, la banca avrebbe fatto comprare prodotti potenzialmente pericolosi ai clienti, a loro insaputa o, secondo le ipotesi, gli stessi documenti sarebbero stati compilati in maniera non corrispondente al desiderio del cliente, pur di vendere le azioni. Una mucca è stata trovata ancora viva tra gli alberi, mentre le carcasse di altre otto sono state trovate a due altezze diverse, lungo un dirupo, mentre una decima si presume possa essere caduta in uno dei tanti canali laterali di Malga, Campoluzzo, inferiore a Darsiero. Si è concluso così l'intervento di una squadra del soccorso alpino, su richiesta del sindaco locale. Il mistero delle undici, mucche sparite da una settimana dal pascolo di Malga, Campoluzzo, inferiore. Dopo due giorni di ricerca dalla scomparsa, i vigili del fuoco erano riusciti a rintracciarne una viva, recuperata poi con l'elicottero. Il proprietario è stato accompagnato sul posto dai soccorritori. Oltre 35 mila presenze complessive e più di 20 mila penne nere a sfilare per la città. È stata una grande festa a Gorizia la domenica della sfilata conclusiva del raduno degli alpini Triveneto 2016 e della donata nazionale della Brigata Alpina Iulia. A sfilare in rappresentanza delle 29 sezioni del terzo raggruppamento, circa 20 mila alpini compresi quelli delle sezioni ospiti e quelli arrivati in città per la donata della Iulia. Lo sfilamento ha preso il via alle 10 dal Parco della Rimembranza per concludersi poco dopo le 13 come da programma con il canonico passaggio della Stecca con la sezione Ana di Vicenza che nel 2017 organizzerà il prossimo raduno Triveneto degli Alpini a Val di Chiampo. Adesso l'appuntamento con l'esperto tributarista e allora sentiamo Alberto De Franceschi. Dichiarazione fatta in ritardo? Chi paga? Il CAF, il commercialista o il contribuente? Il 9 giugno la Cassazione ha posto fine a un'annosa questione con l'ordinanza numero 11.832 che sancisce che anche se la dichiarazione oltre i termini è stata inviata dall'intermediario a rischiare la sanzione è il contribuente. Una sanzione legittima quindi secondo gli armellini e a niente vale il fatto che il contribuente abbia presentato tutti i documenti in tempo utile. È il contribuente stesso infatti che deve vigilare a che l'intermediario, quindi il commercialista, il consulente fiscale o il CAF, provveda nei tempi corretti alla trasmissione della documentazione all'agenzia delle entrate. Fate attenzione quindi e chiamate sempre il vostro esperto per sapere a che punto sono le pratiche. L'obbligo di presentare e redigere la dichiarazione infatti è del contribuente che deve provvedere per proprio conto a versare le imposte dovute. Qualora egli decida di affidare questi adempiedimenti a un intermediario è sempre obbligo del contribuente verificare che tutto sia stato fatto in maniera tempestiva secondo quanto richiesto dalla legge. Gli obblighi di presentazione della dichiarazione, così come quelli di tenuta della contabilità, non vengono assolti con il mero affidamento ad un professionista. Vi suggeriamo poi di verificare se al conferimento dell'incarico esiste dal CAF o dal professionista una polizia assicurativa che vi indemnizzi in caso di errori ed omissioni causate da questi. Vigilate sempre quindi ed in caso di dubbi o per chiarimenti non esitate a contattare il vostro CAF o professionista di fiducia. Per questa sera è tutto, buonasera. E dopo l'appuntamento con il Fisco uno sguardo alla situazione climatica prevista per la giornata di domani. Da martedì il tempo comincerà ad essere più stabile e quindi anche a proporsi con un cielo soleggiato e con temperature che diventeranno in progressivo aumento. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. All'accapiente piscina Coni della Padova Nuoto è stata grande festa per i giovanissimi nuotatori dai 6 agli 8 anni, ovvero la categoria propaganda impegnati nel quinto memoria al Cate Capuani di nuoto, nel ricordo di una donna che ha sempre sostenuto l'importanza di incoraggiare i giovanissimi a dedicarsi allo sport, impianto che ha accolto anche numerosissimi genitori e accorse a sostegno dei loro figli nella competizione di fine anno scolastico prima delle vacanze, in una sfida che è diventata un appuntamento fisso con un tifo davvero stadio. Ad aggiudicarsi il trofeo di questa quinta edizione sono stati i ragazzini del team Padova che hanno preceduto il legnago nuoto che sua volta si è imposto sulla formazione del termo delfini di Avano. Atleti premiati con una coreografica e animata cerimonia all'esterno degli impianti, dalle figlie di Katia, Capuani, Valeria e Daniela e dal presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle. È una giornata importante per lo sport del nuoto perché in queste due piscine, nella coperta e nella scoperta, abbiamo trovato oltre 500 giovani atleti dai 6 agli 8 anni, dai 10 ai 12, per uno sport che sta crescendo in Italia e che ci darà molta soddisfazione. L'importante è dare anche la possibilità a questi ragazzi di confrontarsi in acqua, di divertirsi, stare assieme e capire che lo sport è un elemento importante per la loro crescita. Credo che questo è il messaggio che vogliamo dare con queste manifestazioni. Lunghissima la cerimonia di premiazione per assegnare i premi ai primi tre di ogni categoria e quali sono andate le medaglie di rito, i gardici, così come pure i trofei per le squadre vincitrici e le formazioni che hanno partecipato a questa superlativa tradizione del Memoria Capuani. Tra queste lo swing con selve, i nuotatori dell'Occhiobello di Rovigo, l'acqua ambiente di Bassano, l'Avano Nuoto, la squadra del nuoto del Rovigo e del Vigonzastrà. La giornata di festa per il nuoto negli impianti padovani è poi proseguita nella piscina olimpica esterna di 50 metri, baciata da un raggiante pomeriggio di sole, dove si sono sfidati gli atleti dai 10 ai 12 anni, ovvero gli esordienti A nella competizione organizzata dal Team Veneto, sotto la guida del presidente Silvano Lindaver. In questo momento sono in acqua tutti i ragazzi delle società aderenti al Team Veneto e si stanno confrontando in una bellissima, fortunata giornata di sole, in un grande impianto. Stanno confrontando fra di loro e gareggiando in armonia con il nuoto. L'obiettivo di oggi è farli stare insieme, farli conoscere e far capire loro che oggi sono a fare una manifestazione che si ricorderanno per sempre e per tanto tempo. Il Team Veneto nel nuoto padovano è un punto di riferimento anche qui a Padova, l'impianto della Padova Nuoto. Inoltre, anche a livello nazionale e internazionale, possiamo contare su atleti di grande livello, di alto livello, bravi ragazzi che studiano e che nuotano molto forte. Molti dei nostri atleti sono anche a livello nazionale e abbiamo anche tre atleti convocati per l'Olimpia di Rio. Queste in acqua sono le giovani leve, quelle che in futuro potranno ricoprire ancora il ruolo di nuotatori ad alto livello. Non è solo una festa, è una manifestazione sportiva molto importante perché si vede la crescita del nuoto nella città non solo di Padova ma del Veneto. Infatti hanno aderito molte società della provincia di Verona e di Venezia e di Rovigo. Speriamo che abbia una crescita, ma oltre 500 atleti di queste categorie che sono il futuro di uno sport che sta avendo una grossa risonanza a livello nazionale e internazionale. Credo che questi ragazzi si dedicano a un'attività che li farà crescere in maniera sana, a stare insieme, a divertirsi e avere un futuro nel mondo dello sport. Una sfida tra mini atleti delle società del team Veneto di nuoto che hanno raggiunto in questi anni traguardi importanti a livello nazionale, con numerosi atleti che hanno poi raggiunto traguardi ambiziosi come quelli di essere entrati nella squadra azzurre alle Olimpiadi di Rio. Musica Grazie a tutti.